ciao a tutti da me e da pomettino molto bene allora oggi come si può ben vedere ha vinto nebulosa ma ha vinto di brutto siete stati questa volta qua tantissimi a scrivere sotto all'ultimo video con la foglia oro wow siete stati tantissimi è stato bellissimo incredibile e ora leggo tutto leggo tutto perché il fogliettino eccolo qui allora rosaria corcetti petri martina selline simona costantini nebulosa carmela tarallo nebulosa gerbera verde nebulosa il fab stellino selline diario di bordo nebulosa giardogessa nebulosa laura bonuccella al petri verus capicinella nebulosa e questo ora come si legge fili fili non lo so nebulosa devo sempre fare le figuracce poi il mandorlo in fiore si dice così nebulosa e basta i commenti sono finiti quindi e il petri ha avuto due punti nebulosa otto punti e stelline due punti molto molto bene questo è invece per la prossima volta quindi cosa scrivere sotto questo video vedo le opzioni per la prossima volta tac eccole qui abbiamo perline quindi tutte quelle perline piccole 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 in vari colori poi solo stampi di cacchine o fluo colori fluo quelli proprio intensi che sarà molto difficile farli vedere in camera però ci siamo quindi perline cacchine e fluo scrivete quel cavolo che volete di questo molto bene allora adesso passiamo qua penso di aver sbattuto passiamo a questa roba io io lo chiamo nebulosa ma è un effetto praticamente fatto tutto a caso però ormai l'abbiamo super nominato tutti nebulosa però penso di essere andata giù pesante con il a caso questo giro con colori tecniche cose varie perché se vedete c'è ci sono in alcuni proprio tantissimi colori però 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 su patron c'è il video in cui le faccio che si vede passo per passo come ho messo la resina che colori ho messo quindi su lì c'è todos very well allora cominciamo perché sto parlando troppo tempo partiamo dalla luna allora da dietro sembra veramente molto molto bella e adesso la guardiamo anche da davanti senza spoilerarci ho cercato di fare creazioni abbastanza grandi a parte queste che non volevo proprio vedere com'erano e poi ho fatto la zampina per vedere se ce la farà perché l'altra volta un po di stampo se n'è andata comunque no vabbè c'è questa è nebulosa power questa è nebulosa potentissima guardate che effetti aspettate guardate qui no vabbè no vabbè poi ho messo tutto questo glitterameno un po lì un po lì un po lì un po la che bella che sciccheri di creazione wow guardate come brilla guardate che bella mi piace un casino queste parti qua wow wow poi voglio vedere lo stregatto però lo stregatto è opaco però non ho resistito questo stampo mi piace davvero tanto sono contenta di averlo finalmente rifatto dietro devo dire che è bellissimo già la nebulosa dietro ce l'abbiamo quindi per il momento due anno la nebulosa da qualche parte ok ecco la cosa che mi ha fatto un po strano è che io non so perché ho messo questi glitter qua nell'azzurro quindi non lo so però allora si vede la nebulosa qua vedete si vede l'effettino si vede però dopo che ho preparato questo colore ho detto questo qua mi darà abbastanza fastidio durante le creazioni infatti l'avevo anche scritto su patria anche mi sono un po lasciato troppo andare con questa situazione però ecco di qua mi piace veramente molto 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 di più però è molto bello poi vediamo il teschio wow wow ok questi glitter blu mi danno abbastanza fastidio nelle creazioni però guardate qua che bello qua dove si incrocia il colore qua wow almeno ho sperimentato anche il mettere tanti colori diversi con tante cose diverse dentro veramente veramente molto mi piace un casino qua siamo un cervello ok poi direi che è giunto il momento della zampina ok resisterai zampina oppure no facciamo piano ok qualcosina si è levata tic 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 o che dai ce ne da qualcun'altra di creazione parte facciamo fitte di niente sui lati nassociamente le persone si mettono ad urlare così senza senso nel cortile così vabbè comunque guardate qua è bellissima è bellissima è bellissima era un po' che non lo usavo appunto per questo problemino però wow ecco questo colore qua che ho fatto ci sta molto molto bene con l'effetto nebulosa un colore che ho fatto io quindi molto molto bene poi quindi secondo me quello dove c'è dentro il glitter blu saranno un po strani vediamo questo appunto il glitter blu qua ci ho messo veramente un botto di di roba strana no qua devo dire che il blu c'è però ci sta benissimo no vabbè guardate qui 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 bellissima questa bellissima wow che sciccherina oh mi stanno piacendo un casino queste creazioni non mi aspettavo che quel blu che mi dava fastidio qua invece uscisse così bello ok ora vediamo il gufo che già dietro è stupendo quindi anche davanti dovrebbe essere ah però c'è il blu il glitter qua nell'effetto nebulosa mettere i glitter è sempre un punto di domanda però volevo fare gli esperimenti l'ho fatto io cioè posso fare le cose come voglio no eh se no che cavolo faccio le cose a fare bellissimo bellissimo allora ci fossero stati un po' meno glitter qua blu e a far vedere tutta questa roba qua sotto sarebbe stato top 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 però wow ma che colorino carino che è uscito qui fatemi vedere non dal telefono molto molto bello ah perché ho usato il pink ecco così questo qui non è bello il pink bellissimo bellissimo poi cosa c'è cosa c'è cosa c'è vediamo il gatto che potenza perché dovrei un po' togliere le gocce di resina da questo stampo però beh allora volato qualcosa gira wow wow guardate qui guardate qui è qui qua ecco c'è il verdone l'anno il verdone è già uscito forse perché sono fissata con questi glitterini blu però devo dire che i glitterini blu comunque fanno una luce pazzesca guardate come brilla che scicchi di anche dietro è molto bello mi piacciono sia davanti che dietro che sciccherina anche questa creazione poi fatemi un attimo capire cosa manca il cuoricione il cerchio e il gufo e basta sì adesso vediamo il gufo così tolgo questo stampo gigante dalle maronas ok wow allora qui di nebuloso ce n'è pochino ovvero dove no c'è qua si vede un pochino anche qui e anche qua si dai qualcosina c'è soprattutto qua in mezzo molto bello questo glitterame qua questo qua rosa un po' così molto molto carino molto molto bella bella mi piace ci sta per il momento sono uscite tutte nebulose qua già è un grande passo perché non sempre esce qua sono piena di glitter comunque allora qua 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 vediamo questo e alla fine il cuoricione ah e poi mi era avanzata un po' di resina però non riuscivo più a fare comunque questo effetto perché era qualche pezzettino di lì pezzettino nei bicchieri e ho fatto delle creazioni due creazioni mi sembra che vedremo in uno scopriamo normale in questo non c'entrava molto appunto perché non era più nebulosa guardate che bello questo è nebulosissimo nebulosissimo wow molto molto bello sono stata zitta perché c'era quasi un momento ruttino ma non mi è uscito e niente bellissimo molto bene adesso passiamo all'ultimo che è questo che è questo che è gigante senza spoilerarci senza spoilerarci ho detto ok allora guardiamolo dietro devo dire che dietro è bellissimo si è formato un sacco di nebulosa dietro wow no vabbè no no guardate che meraviglia come si fa oggi a scegliere quella più come si fa oggi a scegliere scegliere quella più bella io non lo so c'è guardate che robe che sono uscite c'è in alcune sono pazzesche questa il gufo la zampina cioè come si fa wow wow tu pomettino sei soddisfatto ti piacciono tutte si pomettino grazie pomettino per favore dimmi qual è la tua preferita ah si è lo stregatto è lo stregatto pomettino piace molto lo stregatto effettivamente verde e azuro con questi grittini qua blu e dietro top 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 invece io che ne so io non lo so dico facciamo che dico l'ultima ok perché è bellissima ma anche tantissime altre mi piacciono ma dico l'ultima perché è eccezionale anche questa e niente è buono comunque io vi ricordo instagram link amazon e padron giù nell'info box punto uno punto secondo fatemi sapere un po che cosa ne pensate di queste creazioni punto terzo ditemi qual è la vostra preferita mi raccomando se avete voglia ovviamente quasi scherzo cioè ok e poi dov'è che ho messo il foglietto qui fatemi sapere per la prossima volta tra questi molto molto bene quindi pomettino è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao 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 ciao